Il governo del cambiamento per ora regala soddisfazioni elettorali, soprattutto al Carroccio. Il centrodestra, attrazione leghista, si afferma nella maggioranza dei 700 comuni in cui si è votato un risultato commovente il giudizio del leader del Carroccio, Salvini. Mentre il Movimento 5 Stelle subisce una frenata piuttosto evidente al nord, ma soprattutto al sud in riferimento alle politiche di marzo, ma per Di Maio nessun affanno. Il centrosinistra invece, nell'inedito ruolo di forza di opposizione, limita tutto sommato i danni. A cominciare da Brescia con la conferma al primo turno dell'uscente sindaco Emilio Del Bono del centrosinistra contro Paola Vilardi del centrodestra. A Vicenza, netta affermazione di Francesco Rucco della Lega, che centra il colpaccio al primo turno e anche a Treviso, come in tutto il nord-est, vola il centrodestra spinto dalla Lega. A Imperia invece si registra il ritorno di Claudio Scaiola, l'ex ministro del più votato, staccando l'altro candidato del centrodestra, Luca Lanteri, sostenuto dal presidente di regione Toti. A Dancona, affermazione di Valeria Mancinelli del centrosinistra, su Stefano Tombolini del centrodestra. A Terni, dove si registra la storica sconfitta della sinistra, si va al ballottaggio tra il candidato del centrodestra e quello del Movimento 5 Stelle. Centrosinistra che perde anche Catania con il sindaco uscente Enzo Bianco, sconfitto da Salvatore Pogliese del centrodestra. In Sicilia, in generale, brusco calo dei 5 Stelle fuori dal ballottaggio a Messina, mentre a Trapani, successo con il 71% del centrosinistra, con una lista civica al primo turno. Nella capitale, inoltre, dopo due anni di giunta, si fa sentire l'effetto raggi e il risponso delle urne negativo nei municipi di Garbatella e Nomentano. Netta la sconfitta dei 5 Stelle che non portano al ballottaggio alcun candidato alla presidenza dei mini parlamentini romani.